La tua voce in regione. Così, davanti ad oltre mille persone all'Hotel Du Park, si è presentato ai suoi sostenitori l'ex sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, impegnato nella corsa alle prossime elezioni regionali con la lista di Forza Italia, a sostegno di Marco Marsilio, presidente. Dopo aver ricordato il suo percorso amministrativo, i due mandati al comune e oggi l'assessorato, Astolfi ha elencato i punti programmatici del suo impegno politico. Il mio slogan è la tua voce in regione. C'è stato una specie di distacco tra le istituzioni, soprattutto regionali, e il popolo. Io credo che la mia esperienza da sindaco di amministratore, il fatto di essere sempre stato a contatto con la gente, anche e soprattutto in eventi difficili, neve, terremoti, alluvioni, eccetera, possa essere un motivo in più per riavvicinare la gente alle istituzioni e per far sì che la politica finalmente torni ad amministrare il bene pubblico. E non a governarlo. Una candidatura importante nella provincia terramana, quella di Astolfi, secondo il candidato presidente Marco Marsilio. Astolfi è un nome e una garanzia, quindi sono venuto consapevole di incontrare tanti amici, tanta gente, tanti sostenitori in un ambiente molto, molto motivato. Come d'altronde accade ormai un po' in tutte le città d'Abruzzo che visito, c'è grande entusiasmo, soprattutto c'è una grande voglia di cambiamento e di assicurare la necessaria discontinuità con la regione Abruzzo, governata dal Partito Democratico e da Luciano D'Alfonso. Il centrodestra è l'unica vera alternativa credibile e lo dimostra il consenso crescente che c'è intorno alla nostra candidatura. Grazie. 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 Grazie.